Eccoci e bentornati sul mio canale nuova breaking news su Call of Duty World War 2 e parleremo in questo video di Nazi Zombies Ieri sera vi ho mostrato questo sito che è apparso stranamente o meglio un mini sito apparso all'interno del sito ufficiale di Call of Duty dedicato appunto alla modalità Zombies di Call of Duty World War 2 che contiene veramente tantissimi easter egg state vedendo tutte le immagini che sono riuscito a tirare fuori appunto da questo sito perché bisognava mettere una combinazione bisogna appunto fare tutti i vari passaggi e come potrete vedere sono tutte immagini che sono contrassegnate da una sorta di zombie quindi queste sono le prime informazioni quindi i primi easter egg sulla nuova modalità Zombies del gioco vediamo tutto quanto nel dettaglio sulla sinistra trovate l'immagine di Federico Barbarossa perché si riferisce all'operazione Barbarossa fatta dalla Germania per conquistare la Russia durante la seconda guerra mondiale mentre l'immagine sulla destra è un ritratto di Raffaello che è andato perduto durante sempre la seconda guerra mondiale quindi svelato finalmente il collegamento che c'è tra questi due personaggi e Call of Duty World War 2 ma non è finita qui perché nella schermata principale dove bisognava andare ad inserire il codice c'era una coordinata molto interessante la potete vedere qui in basso questa coordinata se la andiamo a mettere su Google Maps ci porta a Dunkirk per chi non lo sapesse la battaglia di Dunkirk si svolse nel 1940 sempre nella seconda guerra mondiale nella prima fase della grande offensiva in Occidente sempre sferrata dalle truppe tedesche quindi tantissime informazioni e tantissimi easter egg presenti all'interno di questo sito staremo a vedere nel corso di questi giorni come si evolverà la situazione però volevo aggiornarvi appunto su tutte le novità arrivate ieri sera all'interno appunto di questo mini sito attivato dalla Sledge Hammer Games fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e noi ci vediamo con tanti nuovi video se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui sempre sul mio canale